Lasciare indietro l'isolamento di Padova, ce lo chiede la signora Maglia di fronte a casa mia, ma ce lo chiede anche l'impresa. Evitiamo di pensarci soltanto come una piccola realtà di paese, siamo una grande realtà di provincia che deve ritornare a fare baricentro e il tram è soltanto una piccola espressione di quello che potremmo diventare. Un collegamento, mi diceva un anziano signore che è da anni o da decenni che sente parlare di collegamento Padova-Vigonza, mi diceva che basterebbe anche un collegamento con una cariola, non basta, non serve il tram perché Vigonza è da così tanti anni che ha questa esigenza frustrata che sente forte questa necessità di collegamento. Partire dai bisogni delle famiglie e quindi considerare non il singolo pezzetto di terra come un'isola, ma cercare di guardare la città nel suo complesso. Quindi apriamo un attimo lo sguardo, cerchiamo di mettere i servizi, non soltanto aree verdi, ma anche servizi per le famiglie, per la mamma che porta il bambino al parco, per il nonno che va a prendere il bambino all'asino, cerchiamo di integrare l'urbanità, quindi la città, con i singoli servizi. Il concetto di standard è il concetto che deve essere superato oggi perché se io ho tre contini a cui faccio fare tre piccoli pezzi di verde che rispettano gli standard, non ho risolto il problema del verde. va vista come area, non più come lotto, quindi uno standard di area. Questa è la vera rivoluzione. Noi a Vigonza abbiamo la possibilità non solo di prometterlo, ma di farlo in temi più brevissimi, perché il nostro PAT, che è il piano dell'assetto del territorio, ha ormai esaurito la sua forza.